Ciao a tutti, non so se vi ricordate ma sei mesi fa quando ero in cena vi ho detto che ho un piccolo problema con le vertigini ora sono qui a La Paz in Bolivia e per dimostrarvi che l'ho ampiamente superato andrò a fare un salto nel vuoto attaccato a un filo da questo palazzo verde che sarà almeno 50-60 metri in realtà me la sto già facendo sotto ma mi sembrava una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita in attesa del tuffo, una veloce panoramica sulla città di La Paz, cattedrale principale, il traffico e le case arroccate in fondo siamo qui con il mio vestitino da superman, il nostro istruttore ci fa vedere come si fa e dopo andremo a ripetere con la ropa e aperta gently, guarda il mio corpo sempre straight, ok? questo è il clave, ok? ok come si puoi vedere, questo è la ropa, non ha la ropa, non lo so, non lo so non ti preoccupi, non ti preoccupi, non ti preoccupi, vieni i piedi e si senti a la porta Ora per il gin, non ci rispondiamo. ARDO CHEVI Quando lo fanno gli altri è semplicissimo! Vediamo cosa dovrò farlo io. molto bene, Stefano is Spiderman benvenuti Spiderman